L'ultima sultana di Kevin Svierkosch Lennart Mia madre leggeva i tarocchi da sempre. Sono cresciuto in una piccola realtà popolare a Roma, dove i clienti non mancano e soprattutto non pagano. Ricordo che mi portava spesso in un negozio di abbigliamento su Via Appia e sul retro leggeva le carte alle commesse. Usava il mazzo napoletano e i risponsi erano un'immancabile costruzione modulare, fatta a partire dalla telefonata, le novità in arrivo, una donna invidiosa, un uomo nuovo che non conosci e sarà una storia importante. Cambiava l'ordine, ma del resto si mischiava il mazzo. Era quello il primo contatto con una realtà femminile tipica, economicamente precaria, sempre in cerca del grande amore e del colpo di fortuna finanziario. Guardinghe nei confronti del malocchio e degli invidiosi. Finiscono per tingersi i capelli dopo i 50 anni, con un colore che varia nella paletta dal rosa al fucsia al violetto. Sono sempre pronte a raccontarti la storia di un uomo infame, di cui hanno subito le angherie. Poi a un certo punto ritrovano se stesse, scoprono quel che conta davvero nella vita e si aggregano fra loro, in questo femminismo meno pausato, entro il quale lo yoga e il buddismo coabitano con padre Pio e una qualche professore avveggente a cui rendere visita dalle parti della Tiburtina. Non le giudicavo allora, non avrei potuto e non lo faccio oggi. Se non sono gigli, sono pur sempre figli, vittime di questo mondo. Quando frequentavo il primo anno di università, mia madre mi disse un giorno che Pier la Sultana aveva un banco alla Festa dell'Unità, al parco di Porta Capena. Si trattava di un personaggio famoso a Roma, un cartomante trasmesso regolarmente in diretta su una piccola televisione privata, istrionico all'inverosimile, perfettamente androgino, adagiava sul tavolo monili di ogni sorta, dai biberon ai mattarelli, dalle perette dei clisteri ai santini. Non si può dire che non avesse una visione chiara del mondo. Era letteralmente immerso in una dimensione sacrale, arcaica e archetipica. Uomo e donna come Tiresia, elevato nella statura del santone, senza rinunciare a trascinare latte e feci con sé, volgare, ma sempre animato da una finezza psicologica ineguagliabile. Predicava ad un pubblico inconsapevole la via della liberazione attraverso alla ripresa di contatto con l'inconscio e l'indifferenziato. «Ma voi state male, figli! Ve fate troppe pippe mentali, ve fate ingabbià! Siete mezze scoregge! Evviva la destra, evviva la sinistra, evviva i froci, evviva gli etero, evviva il papa! San D'Antonio briccungello, pregave noi!» All'epoca non coglievo la complessità della sua persona. Ero forse anche un po' respinto dal suo essere eccessivo, ma ero completamente disperato. E tanto per tornare alle miserie del mondo che vidi da bambino nel retrobottega dell'Appia. Guai a colui che deride le piccolezze altrui, perché prima o poi la disperazione, la piccolezza, lo smarrimento toccano a tutti. In quel caso era toccato a me, brillante universitario alla facoltà di medicina, studente modello, giovane pieno di vita. E mi era toccato per due ragioni. La prima è che la mia fidanzata dell'epoca mi aveva mollato, ed io sa se ha fatto bene, gettandomi in uno sconforto chiaramente depressivo. La seconda era che avevo perso il mio tocco magico con lo studio. Grazie al cielo avevo cominciato a vivere, ma non me ne rendevo ancora del tutto conto, e studiare non aveva più quella naturalezza e quella garanzia di risultati che mi avevano sempre accompagnato fino al liceo. Andai al parco a piedi. Sarà stata un'oretta da casa mia. Le sere d'agosto a Roma non fanno sconto ai depressi. Il caldo umido, il comandamento di festa implicito nella stagione, non fanno che acuire il dolore di chi non si è sintonizzato sulla lunghezza d'onda imposta. I riflessi di rosso marziano, che si iniettano nel grigio scuro delle nuvole, rendono la solitudine carica di disperazione. Lo vidi quasi subito entrando nella fiera. Una figura snella, con dei bellissimi capelli sciolti molto curati, dai colori cremisi che ben si intonavano con quelli del cielo, sfogliava impazientemente un ventaglio guardandosi intorno, forse in cerca dei clienti. Mi avvicinai, chiesi un consulto e cominciamo. Mi invitò quasi subito a rilassarmi, a lasciare andare tutto quel controllo che pretendevo di esercitare sulla mia vita. La mia ex era andata. Non c'era niente da fare, ma un'altra donna sarebbe arrivata di lì a poco e sarebbe stata una storia importante. Per l'esame nessun problema, ma era meglio rimandare alla sessione del mese successivo. Quando poi lo feci davvero, dicendo che me lo aveva suggerito Pier, i miei compagni di corso credettero definitivamente che fossi pazzo. Io mi rivolgevo a lui al maschile, come ho sempre fatto in seguito. La maggior parte dei clienti la chiamavano al femminile. Chi crede che l'una o l'altra opzione potessero anche minimamente infastidirlo, non ha capito niente di lui. Ad ogni modo ho presi trenta. Non mi rimisi con la mia ex. Incontrai pochi mesi dopo l'amore della mia vita. In quell'occasione la sultana mi disse una cosa su cui ho riflettuto tanto negli anni successivi. Il tuo problema, per ora, è che non è ancora risolto un forte conflitto fra il metafisico e il materiale, l'ideale e il reale. Sorprendente per uno che chiamava i clienti cuccioletti e definiva gli amori infranti delle mezze scoregge. Ma questo era il genio di Pier, la capacità di adattarsi alla psicologia di chi aveva davanti, in maniera immediata e istintiva, di lasciarsi abitare da una saggezza più grande e più antica di lui. Dieci anni dopo ero con Susanna, la donna che mi era stata annunciata quella sera a Porta Capena e con cui avevo successivamente condiviso tutto e che ora si trovava ad affrontare un momento di forte incertezza lavorativa. Le dissi che per una faccenda del genere la sola soluzione possibile fosse Pier. Le mostrai dei video su YouTube e notai come negli anni i suoi tratti grotteschi e istrionici si fossero acuiti. Lei aveva una certa reticenza, ma si fidava di me. Quando chiamai, il cartomante dovette scambiarmi per un altro cliente con cui aveva una discussione in sospeso. «Ah sì, perfetto, vieni pure a casa mia e ricordati di portarmi una giocca di capelli e uno scritto della persona che ti interessa». «Ah, no scusa, no, non sei tu. Pensavo a un'altra persona. Vuoi un consulto per la tua compagna? Ma certo, cucciole, viene a studio». E mi fissò un appuntamento. Quando riattaccai, confidai a Susanna quel che mi aveva detto sulla ciocca di capelli. Lei guidava, fermò l'auto e mi guardò chiedendomi «Ma che cazzo stiamo facendo?». La consulenza durò ore. Io aspettavo fuori come Rudy che attende il parto dei Dalmata nella carica dei 101. Susanna uscì. Era radiosa, ma vagamente turbata. Pierre aveva predetto nell'immediato un importante sblocco sul lavoro, ma aveva parlato di problemi di salute di suo padre e mia madre. Non sto a dire di più, ma aveva incredibilmente ragione, anche con una certa accuratezza diagnostica. Quando il lavoro si sbloccò effettivamente, cominciamo a teorizzare con Susanna che, più che la precisione divinatoria, l'aspetto cruciale della sultana fosse la bumbetta, ovvero una forte energia apotropaica. Il termine era quello con cui il cartomante indicava in televisione la peretta per i clisteri, simbolo, neanche troppo casuale, degli sblocchi. Stabilita questa legge del cosmo, divenne abituale, ogni volta in cui eravamo a Roma, andarci a far sbumbettare. Una sera, dopo una cena a casa di amici, Susanna mi disse che aveva percepito una immediata liberazione da un senso di malocchio quando uno degli ospiti l'aveva toccata. Cominciai a ridere come un ragazzino e le raccontai un aneddoto di quando facevo la scuola materna dalle suore e la maestra, commentando a un passo del Vangelo di Marco, nel quale una donna tocca Gesù e guarisce, ci spiegò che il Cristo aveva sentito una forza uscirgli dal mantello. Avevamo entrambi delle convulsioni quasi isteriche da divertimento, mentre andavamo alla cappella Orsini, dove Pierre consultava eccezionalmente quella sera. Quando arrivammo, io in giacca e cravatta e Susanna in abito da sera, il responsabile alla sicurezza ci chiese se avessimo contezza di cosa si svolgesse nel locale. Dissi che eravamo lì per la sultana. Ah, vabbè, vabbè, entrate, è una serata gay, ma no una roba spinta, eh. All'interno, una drag queen danzava una splendida coreografia su una canzone che non ho mai più ritrovato, ma che in sostanza scagliava anatemi contro i fascisti omofobi e diceva «Fascì, fascì, te faccio un culo così!». Il banchetto di Pierre era indisparte, per l'occasione c'era anche qualche fallo di plastica sul tavolo. Sembrava veramente di partecipare a una cerimonia di antichi misteri. Quella sera mi predisse l'arrivo di mia figlia, entro due anni, che sarei rimasto con Susanna e mi disse di sbarazzarmi una volta per tutte del mio fascismo interiore. Dopo quella volta, i consulti presso il suo studio furono pochissimi. Utilizzavo soprattutto il servizio telefonico con carta di credito, a cui rispondeva sempre lui. Presi anche ad offrirlo come un regalo agli amici più intimi. Chiamavo i due numeri, li mettevo in modalità conferenza e ascoltavo in silenzio. I beneficiari ne uscivano sempre sbombettati. Capitò che un amico fraterno volesse sapere se avrebbe ripreso un importante ruolo di docenza. Pierre, ormai sordo, aveva scambiato la sua voce per quella di una donna e lo appellò al femminile. L'interlocutore, un uomo colto e libero, rispose piccato di essere un maschio, al che la sultana lo redarguì deluso. Ma figlio mio, o modonna, siamo tutti creature, creature umane. Dopo la telefonata, in cui un pieno successo era stato garantito entro due anni, il consultante mi disse di essersi sentito un vero coglione a insistere su quel punto e di averne tratto una lezione. Gli feci recapitare da casa una bombetta. Due anni dopo aveva il posto promesso. Scoprì che Pierre era malato da una trasmissione televisiva. Aveva sempre fumato una quantità indefinibile di sigarette e di colpo la sua voce faceva paura. Lo chiamai sul numero a pagamento. Non voglio chiederti niente, Pierre, solo sapere come stai. Ho un cancro laringeo, ma non accetto la tracheostomia. Voglio mantenere il mio corpo integro. Morì pochi giorni dopo, come una vera creatura umana, libera. Libera, anche nella morte, che ha guardato in faccia e senza paura. I funerali sono stati celebrati al tempietto egizio del verano. Roma, la Grecia, l'Egitto. Questo era Pierre. Credo che negli anni io abbia scientemente attuato un piano di rimozione di tutte le volte in cui le sue predizioni si sono rivelate inesatte. Mi è servito pensare un mondo in cui un antico sacerdote greco-egizio, androgino, potesse ancora riportarci su quel piano di libertà che indica il matto nei tarocchi. E viva la destra, e viva la sinistra, e viva i froci, e viva gli etero, e viva i santi, e viva i dannati, e viva la vita, e viva la morte. Stacchi telefoni, inonda, 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 come qualcosa di miracoloso. Quindici anni di voluto ignorato, adesso prepotentemente in auge. Quelli che contano delle grosse televisioni hanno scoperto che bisogna rivalutare il passato per vestire meglio il nostro presente. La bombetta, la bombetta è tornata, e allora, e allora, e allora, personaggi che contano, VIP, hanno rilanciato, au, fate silenzio di là, hanno rilanciato lo strumento delizioso. Con chi ce l'hai? Silenzio, silenzio, si parla della bombetta. La bombetta che ormai sta abbracciando tutti i ceti sociali, prepotentemente come tutto quel che ritorna di moda. E allora, VIP, vi ringrazio. Personaggi che sapete come si fa la televisione. Vi ringrazio. Avete ascoltato il mio disperato appello. Rivalutiamo la bombetta e la vita non sarà più stretta. Grazie di essere tornata di moda. Le prossime settimane ne porterò una grossissima per far sì che ci sia un elogio della bombetta e la vita non sarà più stretta.